Ricostruzione post-sisma, infrastrutture e investimenti in salsa green. L'Abruzzo intende spendere così i soldi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sbloccherà le risorse del Recovery Fund. Un malloppo da 2 miliardi e 200 milioni di euro, ancora da definire, che arrivano sia da Bruxelles sia dai fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione. Una volta arrivati i soldi, ha dichiarato il governatore Marsilio, le opere sono immediatamente cantierabili e volte a rilanciare l'Abruzzo da qui al 2027, nel rispetto delle indicazioni europee. Cominciamo dalle infrastrutture, l'Abruzzo paga un ritardo storico di infrastrutturazione, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporto, quindi su questo tema concentreremo una parte importante della nostra attenzione e poi c'è tutto il tema generale della transizione verde, e per certi versi è quasi obbligato, nel senso che gli obiettivi europei sono quelli e quindi una parte importante della spesa è vincolata a questo, ma per noi è un'opportunità perché l'Abruzzo è già regione verde d'Europa, è una regione da questo punto di vista che ha degli asset strategici fondamentali di cui altri fanno fatica a disporre e quindi per noi è una sfida esaltante di mostrarci all'altezza della transizione ecologica. Aspettiamo anche di capire, domani ci confrontiamo con il Presidente Draghi, se e quanto spazio ci sarà dato per poter finanziare questi progetti. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta e sono progetti immediatamente cantierabili, comunque percorribili, che possono dare quella marcia in più che serve alla Regione per poter crescere e per poter sviluppare economia. Le infrastrutture sono una priorità per il Governo regionale, che intende sviluppare porti, autostrade, ferrovie, anche per rilanciare il ruolo abruzzese negli scambi commerciali tra l'Europa orientale e quella occidentale. Una di queste opere dovrà essere la tanto pubblicizzata alta velocità Roma-Pescara, ma dei quasi 7 miliardi necessari al completamento dell'infrastruttura, nel piano nazionale non c'è alcuna traccia. Nella programmazione ci saranno i soldi per avviare l'opera, ha detto Marsilio, ma poi arriverà sicuramente il resto dei fondi promessi dal Ministero e da Rete Ferroviaria Italiana. Ho parlato ieri con il Ministro Giovannini. Nel PNRR non ci sarà l'intero finanziamento, che è di oltre 6 miliardi, per fare tutto il progetto che abbiamo condiviso con RFI, con la Regione Lazio e con il Ministero. Perché il PNRR ha delle scadenze, i fondi devono essere spesi entro una certa data, e gli interventi sulla ferrovia sono interventi più lunghi di certe scadenze. Il Ministro ha garantito che inserirà nel recovery quella parte di opere che possono essere completate subito, quindi entro il termine del 2026, e il resto però ne ha garantito, questa è la richiesta che gli ho fatto, di garantire nel contratto di programma con RFI e comunque nei fondi ministeriali la copertura integrale, come già promesso dal suo predecessore, e noi ci attendiamo che questo impegno venga onorato, perché la copertura integrale del progetto comprende anche i fondi per il potenziamento cargo, quindi non solo traffico passeggeri, ma anche traffico merci, che darebbe a questa ferrovia una marcia in più per poter sostenere lo sviluppo economico del territorio.